Benvenuti su Klinis Windows Service, un gioco horror dove puliremo le finestre di una casa gigantesca! E voi vi starete chiedendo, ma perché è horror? Non lo so neanch'io, mi cagherò sotto? Assolutamente sì, iniziamo! Numero sconosciuto, ciao, servizio di pulizie? Abbiamo delle finestre abbastanza sporche a casa! Eh sì, io sono un servizio di pulizie, ma siamo impegnati per tutto il giorno! Ah, quindi devo farlo di notte? No, 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 di notte io non faccio niente! Ah, sarò pagato prima, giusto? Upfront vuol dire prima o in front? Cioè, mi butti i soldi in destra, non ho capito! Ah, adesso mi mandano l'indirizzo, va bene, non c'è problema! Sì, sì, ho capito la casa di notte! Mi sembra leggermente eccessiva come casa, ma è gigantesca! Oh, ok, questo è il mio furgoncino, Klinis Windows Service! E questo è un muro invisibile! Non posso passare! Iniziamo alla grande! Perfetto, noi ci siamo rimboccati le maniche! Dling, dlong! C'è nessuno? Aspett, aspetta, no, in realtà non ci dovrebbe essere nessuno! Ma hanno aperto comunque il cancello! Ah, va bene, non c'è problema! E quindi, oh, che macchinone! Posso rubarmelo? Dai, non c'è nessuno! Questa macchina è più alta di me, cioè, è più alta di me nel gioco! Non ci faremo domande! Dobbiamo pulire tutte queste finestre! Va bene, nessun problema! Nel chill! Salve! Sì, perché bussi alla porta se tecnicamente non c'è nessuno? Ehi! Eh, ragazzi, ma non... Si erano spente le luci? E adesso il camion sta guidando all'interno? Ma non sto capendo! Chi lo sta guidando il camion? Lo sto guidando io? E adesso perché le finestre sono sporche di sangue? Sì! Ah, ok, posso vedere i miei attrezzi e posso pulire! Allora, guarda quanto è realistico! Ma è bellissimo! Perfetto, prendiamo lo strofinaccio e puliamo! Ah, non c'è niente di cui preoccuparsi! È solo una vecchia casa di notte con le finestre sporche di sangue! Giusto! Ah, muoviamoci alla prossima finestra! Questo non è sangue, non è sangue, non è assolutamente sangue! È semplicemente Bobby, il cane, che ha starnutito, però aveva una malattia! Aveva mangiato troppe polpette al sugo e, a quanto pare, le ha sputate contro tutte le finestre! Oh, mamma mia! Sto cominciando a cagarmi addosso! Ah, devo anche rimettere lo spray! Va bene! Imparo a pulire le finestre! Mai dire mai le mie si dovessero sporcare di sangue! Ok? Ah, quindi per le macchie serve solo spray! Mamma mia! Che pulizia! Tra l'altro, bel cesso! Complimenti ai padroni di casa! Ah, ma, cioè, questa roba è attaccata al camion? Dove è spawnata esattamente? Non sto capendo! Va bene! Allora, io non mi aspetto nulla, non mi aspetto che mi appaiano dei jumpscare dalla finestra, vero? Ma non avevate detto che non c'era nessuno in casa? Lì c'è una persona che sta giocando! Eh, sì, sta giocando ai videogames! Che vuol dire? Ah, ok, devo prima pulire tutto! Perfetto, chiedo scusa a me stesso! Ok, pulisco il sangue! Non se... Che stai facendo? Che stai facendo? Ciao! Come stai? Mi ha salutato! Ragazzi, mi ha salutato! Ma quanto è gentile sta gente! Mamma mia! Si vede! Si vede proprio che siete delle brave persone! Muoviamoci alla prossima finestra e muoviamoci anche letteralmente perché mi sto cagando addosso! Sta per succedere qualcosa che non voglio che succeda! Che devo fare? Ok? Questa finestra mi sembra un po' troppo scura! Non è scura, vero? Non c'è niente, nessuno qui? Ragazzi, non mi piace! Ragazzi, non mi piace! Ma poi si può sapere perché c'è il sangue? Cioè, volevo dire... Sì, le polpette del cane! No, ragazzi, è proprio sangue! È proprio sangue! Ma questa è la stanza a fianco! Lì ho visto la luce! Ho visto della luce! Penso che la luce la vedrò tra pochissimo! Ma proprio la luce nel senso che o muoio d'infarto o muoio nel giù! Che schifo! Che schifo! Spray e ragno! C'era un ragno! Non c'è più il ragno! Va bene? Ok? Ok, con calma! Con calma! Non è successo niente! Era solo un semplice ragnetto! Che vuoi che sia! Vero? Era un ragno! All'interno, giusto? Scusa, che cos'altro devo pulire? Oh, infatti! Era un ragno all'interno! Non può farmi nulla il ragno all'interno! Avete anche il biliardo! C'è un problema! C'era scritto che avrei dovuto fare il lavoro di notte perché loro di giorno erano impegnati! O vuol dire che di giorno erano impegnati e quindi non potevano vedere la mia fantastica pulizia? Salve, buon uomo! Sì, sto pulendo le macchie di sangue! Probabilmente qualche assassino è entrato! No, sto minimamente dicendo che sia lei l'assassino! Ragazzi, sbaglio o sul tavolo c'è una strana maschera horror? Vabbè, non ne voglio sapere! Niente! C'è una lucciola! Una lucciola! Spara la lupo! Posso prenderla? Come faccio? Lucciola! Ok, passiamo alla prossima finestra! C'era una maschera inquietante sul tavolo, il che non mi piace per niente, ma noi non ci facciamo problemi perché noi siamo una ditta esperta e professionale, credo, e quindi riusciamo a pulire qualsiasi cosa dallo sporco al non sporco! Perché è già pulito tecnicamente, quindi non dobbiamo fare nulla! Dal sangue alle tracce di altri crimini che ho messi! Sono cagato addosso, l'avete visto anche voi? Quel coso che saliva sulle scale? Era sicuramente il vecchietto di prima! Giusto? Guarda! Guarda la maschera che mi sta fissando! Prossima finestra! Quante ne mai? Lì ci sono delle impronte! Ok, nella lavanderia non ci va nessuno perché si hanno chiamato una ditta di pulizie per pulire le finestre di casa! Figù! Guardate, ragazzi, solo io ho visto qualcosa che si andava a nascondere qui sotto, non sto capendo! Ma in qualche modo devo uscire dal coso dove pulisco? O semplicemente mi girerò e mi cagherò sotto fortissimo? Ah! Ah! Ok! Devo uscire da questo e devo prendere dell'altra acqua per riempire la boccettina! Perfetto, aprilo! No, no, in che senso ho fatto cadere le mie chiavi? Ma imbecille! Non puoi far cadere le chiavi! Lì non c'è più seduto nessuno... No, ragazzi, lì non c'è più seduto nessuno! E non c'è più la maschera sul tavolo! Ragazzi, o c'è un assassino in casa o i tizi della casa sono degli assassini! Il che potrebbe essere la stessa cosa, solo che nel primo caso la famiglia è morta! Nel secondo caso io sono morto! E forse poi anche la famiglia! Sono un po' confuso, ma posso farcela! Apriamo il furgone e voglia quanti ne ho! Ne ho infiniti! Vai! Risalgo! Rimonto la boccettina! Ci sono delle impronte! Ci sono delle impronte! La finestra è aperta! Prossima finestra! Ragazzi, qualcuno è entrato dalla finestra! Quindi probabilmente la prima ipotesi era quella più plausibile! Hanno un assassino in casa! O forse prima non ce l'avevano e adesso ce l'hanno! Non mi far cagare addosso! Non mi far cagare addosso! Perché mi devo cagare addosso? Sono così tranquillo qui a fare le mie pulizie! Non farmi spaventare! Non è che ti chiedo tanto! Guarda quanto è pulito! Dai! Ti ho pulito tutta la casa! Prossima finestra! Iniziamo a salire! E basta! Ma pure là sopra stanno! Ma pure in soffitta dovete fare le vostre cose da assassini! Ok? Sciacquiamo tutto! Io sciacquo, io lavo, io pulisco, io faccio tutto! Di nuovo quella maschera! Ragazzi, di nuovo quella maschera! Ragazzi, quella maschera non mi piace per niente! La vedete? È esattamente qui dove sto sbattendo contro la finestra lo spruzzino! Ok? Pulisci! Pulisci meglio! Devo fare bene il mio lavoro così me ne posso andare di qua! Perfetto! Perfetto! Ragazzi, non l'ho visto solo io! Qualcosa che andava sotto il letto, vero? Non l'ho visto solo io! Io ho visto qualcosa lì sotto che si ficcava nel letto! Vorrei aver visto male! Ma qui ci sono due impronte di sangue! Va bene! No, no, sta succedendo niente! È solo frutto della mia immaginazione! Perché la signora Carmela ha fatto la lasagna con le polpette al sugo mangiate dal cane! E queste sono le impronte della signora Carmela che, mentre faceva la lasagna con le polpette, si è appoggiata alla finestra che doveva vedere... Signora Carmela, io soffro di cuore! Quindi, per favore, facciamo i bravi! Facciamo i bravi! Jimmy! Jimmy! Che stai facendola? Pulisci, pulisci! Aspetta! Da là! È una festa di compleanno! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Non so se mi vedete qui dietro alla finestra! C'è una presenza dietro la porta! Dietro la porta c'è un tizio mascherato! Che, a quanto pare, sta aspettando... Cos'è una festa in maschera? Oppure è un compleanno di quelli strani con tutte le maschere? No, no, no! In che senso stai zitto? Che fa... No! No! Non li guardare! Stanno festeggiando! Non c'è più! Mi è corso davanti! Pulisci, pulisci, pulisci! In fretta, in fretta, in fretta! Io salverò quei ragazzi! Quei ragazzi! Io! Non li avrò sulla coscienza! Io riuscirò! Io riuscirò a salvarli! Mi sono girato io! Mi sono cagato addosso! Va bene! Come se non fosse successo niente! Io riuscirò a salvarli! Io! Io non riuscirò a salvarli! Moriranno tutti! Me compreso! Perché tanto ormai il ticcio assassino ha visto che ci sono anch'io! Splendido, splendente! La finestra spumeggiante! Con l'assassino in casa che mi sta mettendo ansia! Devo dire che però questo gioco è veramente bello! Stiamo percorrendo la storia di un assassino che entra in casa tramite la pulizia delle finestre! È come leggere un manga ma essere psicopatici allo stesso tempo! L'avete visto anche voi? L'assassino? L'avete visto? È partito! Ragazzi! Quel sangue prima non c'era! Io credo che quel sangue prima non ci fosse! Credo che le persone che stavano festeggiando un attimo fa non ci siano più! Sto cominciando a dubitare della mia salvezza dopo questa pulizia! Lì c'è altro sangue! Perché si gira senza che io ti dica niente? Becille! Fai solo che spaventare! Che pulisci! Pulisci e fai il bravo! Pulisci e fai il bravo! Pulisci e fai il bravo! Però la mia domanda sorge spontanea ragazzi e scrivetemi qui sotto nei commenti se ha senso! Io sto pulendo delle macchie di sangue dalle finestre! Però l'assassino è appena entrato in casa e sta ammazzando le persone! Quindi il sangue è sulle finestre! Di chi è? Se l'assassino le sta ammazzando adesso eeeh questo mi confonde! Non confonde anche voi? Io sono veramente confuso! Sono bravissimo nel mio lavoro perché sto pulendo qualsiasi cosa e sono sicuro che sto per cagarmi addosso in una maniera che neanche immaginate! Io adesso spruzzo, pulisco e me lo trovo qua in faccia! Però voglio anche sperare che non sia così! Qualcuno è entrato in soffitta! Palesemente qualcuno adesso è entrato in soffitta e trascinava un corpo! Magari è la signora Carmela che sta portando a dormire il piccolo Timmy perché ha mangiato troppa lasagna! Spero che abbia mangiato troppa lasagna e abbia vomitato! Quello non era un assassino! Perché è Halloween e quindi è una festa in maschera! C'è una cassaforte, ottimo! E c'è di nuovo quella maschera! Perché è una festa in maschera! Giusto! È una festa in maschera e quindi ci sono le maschere! C'è il bagno, un altro bagno... Questa casa è enorme! Enorme! Ci credo che poi ti entrano i ladri assassini! Se non riesci a gestire una casa così grande! Ho sentito un rumore provenire da camera mia! E il problema è che non c'è nessuno alla finestra a fare le pulizie! Quindi mi sto leggermente cagando addosso! Quella sul pavimento è la maschera dell'assassino! Quante maschere ci sono? Assassino! Assassino che non sei altro! Dove sto andando? Sto salendo! Sì, sto salendo! Ragazzi, sta per giungere la nostra fine, vero? Eh... Non è Babbo Natale ad essere entrato in casa! È un killer! Siamo tranquilli perché nel dubbio se si butta dalla finestra cade giù! Io mi abbasso! Non mi posso abbassare! Ti prego non dirmi che adesso sta per finire l'acqua! Perché potrei impazzire! Adesso potrei impazzire! Stanno salendo tutti insieme! Ragazzi, l'avete visto che stavano salendo tutti insieme? C'è qualcosa che non mi quadra! C'è qualcosa che non mi quadra! Hanno tutti una maschera! C'erano delle persone lì! Non ho capito niente! Numero sconosciuto! Che vuoi? Salve, servizio di pulizie? No! No, non sto capendo! Cioè loro prendono quelli delle pulizie? Le ammazzano? Pulisco? Oh mamma mia! Oh mamma mia! Rapiscono quelli delle pulizie! E stanno spalmando la lasagna di zia Carmela! Non potete sprecare la lasagna così! Grazie per aver giocato, ma tua sorella!